Grazie Fa sempre piacere questo prego Ha avuto la fortuna di vincere Come l'ha vinto Fisica Quando vennava la prima squadra Adesso con la prima squadra Quindi è un tipo di orgoglio Insomma un premio importante Ho dato da due personaggi Io e Marco Sorvino Ho solo letto insomma Ho visto qualche immagine Di quello che ha fatto con il Cagari Poi penso a Filice Pulici C'è il figlio È stato Un grandissimo giocatore Della razza nello studente Tra l'altro oggi penso che Si Ci avrebbe stato portato Di maestreri Ho nostro figlio Quindi Un ricordo Ma Penso anche Penso anche La mia storia del Cagliatore Perché io sono arrivato Nel 99 Felice era Era dirigente insieme Ha governato insomma Gestivano Quello che era la razza Era un grandissimo luogo Che a me personalmente Mi ha aiutato Perché io ero giovane Che ho avuto la piacenza Una squadra Di provincia Che era la razza E per me Felice Pulici È stato È stato importantissimo Quindi Sono orgoglioso e felice Di essere qui Per questo Per questo premio Che chiaramente Condivido con Con il mio staff Con i miei giocatori Con la mia società l'Inter Che mi ha dato La possibilità Di essere qui Con i miei giocatori Con i miei giocatori Con i miei giocatori Con i miei giocatori Che mi ha dato